Buongiorno, la prova di oggi che faremo è quella dell'uomo cavia, vi farò vedere quello che si può fare con un ficile soft air a una distanza di 5 metri, quello che si prova a prendere i colpi da 6 mm nella schiena. No, 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 no. No, 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 no. Questo è quello che si prova con dei colpi da 6 mm nella schiena da 5 metri con un fucile soft air, un M4, quindi attenzione quando giocate, ricordatevi di mettere sempre mascherine, occhialini e protezione e ricordatevi che anche se è un gioco ci si può far male, ma è pur sempre guerra. Alla prossima puntata.